Ecco, l'altra cosa importante di questo assieme è che mi sono dimenticato che qui il dente non deve essere selezionato, dunque si deve vedere c'è un tratto che una linea che rappresenta il diametro di fondo della ruota dentata fino al diametro di testa non deve avere la campitura. E poi per rappresentare il diametro primitivo deve essere indicato una linea tipo questa qua, che in modo approssimato mi indica che c'è un diametro primitivo, in questo modo vedo che questa è una ruota dentata. Inoltre, di solito nelle ruote dentate i bordi devono essere smussati, dunque qui, oltre a quello che avevo detto nel video precedente, deve essere molto chiaro che questa immagine rappresenti una ruota dentata. Va bene, ci vediamo alla prossima, arrivederci.